buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro nuovo video andiamo direttamente sulla pagina principale vi ricordo dove potete accedere ovviamente tutto al contenuto quindi la parte formativa che trovate qui sotto formazione con la trading academy e ovviamente la parte di analisi dove potete trovare tutte le varie news e ovviamente poi trovate anche l'accesso, ci mancherebbe altro la piattaforma sia in demo sia in reale andiamo direttamente dentro la piattaforma demo in questo caso qui perché ovviamente nel nostro progetto formativo dell'accademia stiamo analizzando gli indicatori e gli oscillatori abbiamo già fatto un elenco di vari indicatori e vari oscillatori ed è un momento in questo momento qui quindi visto che siamo più o meno alla metà di questa macro categoria è il momento di fare un attimino un passo indietro perché l'avete chiesto? innanzitutto bisogna definire qual è la differenza tra indicatore e oscillatore sostanzialmente andiamo un attimino con la definizione di oscillatore l'oscillatore è uno strumento di analisi tecnica utilizzato proprio per studiare le varie oscillazioni nel mercato si basa quindi su calcoli matematici alcuni di voi diranno beh ma l'indicatore è anche un po' la stessa cosa quindi dov'è effettivamente la differenza principale? beh la differenza principale sostanzialmente consiste nel fatto che l'oscillatore si muove in un range predefinito ok oppure intorno a una linea quindi appunto oscilla mentre gli indicatori gli indicatori sostanzialmente seguono una gli indicatori seguono appunto una una tendenza ok quindi seguono la tendenza in atto direttamente sul sul prezzo quindi questa è una grande differenza quindi i primi gli oscillatori abbiamo detto si muovono in un range ok quindi definiscono un range quindi è importantissimo questo questo concetto qui di range mentre un indicatore più che altro si muove si muove si muove appunto in 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 funzione appunto dal prezzo gli indicatori e gli oscillatori sono comunque il risultato di procedimenti e calcoli matematici applicati ad una serie numerica ok che rappresenta le quotazioni e in poche parole la base di calcolo e il grafico a candele giapponese quindi in soldoni i volumi ok essendo uno strumento così molto utilizzato sotto questo punto di vista dagli analisti tecnici è importante conoscerli magari meno importanti le sue origini però se qualcuno di voi avesse un po' più voglia e più di tempo il consiglio è proprio quello di approfondire perché comunque non fa non fa mai male ad ogni modo lo scopo di tali strumenti è quello appunto di complementare quello di analizzare le tendenze misurando nella forza e la consistenza quindi confermando cosiddetti segnali operativi oppure far suonare il campanello il campanello d'allarme quindi è molto importante sotto questo punto di vista tenere ben presente ok che nessun indicatore nessun oscillatore vi darà appunto quel segnale specifico ma lo potete utilizzare come 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 filtro sostanzialmente ok un punto importante che che bisogna ricordare quindi in questa in questa leggera differenza tra indicatori e oscillatori è che gli indicatori funzionano meglio nelle fasi di mercato ben definite quindi essendo più quindi degli input diciamo di 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 trend quindi lagging indicator mentre l'oscillatore è un leading indicator quindi l'indicatore generalmente funziona meglio quando i trend sono forti quindi sono fortemente a rialzo mentre ovviamente l'oscillatore già il fatto che comunque nella definizione diciamo che si muove in un range ok è più auspicabile utilizzarla appunto nel in questo famoso in questo famoso range quindi è molto interessante classificarli indicatori come diciamo uno strumento di tendenza l'oscillatore diciamo uno strumento che funziona meglio nelle 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 varie nelle varie fasi laterali nei cosiddetti trading trading range ovviamente nella famiglia degli oscillatori che stiamo vedendo che abbiamo avuto modo di vedere e due sono i concetti chiave sostanzialmente che sono quelli che vi avevo anticipato con il MAC livelli di per comprato e di per venduto e le divergenze ok quindi questo aspetto è piuttosto importante da tenere in considerazione e e quindi sotto questo punto di vista dovete sempre tenere in mente questa questa cosa qui quali sono alcuni dei principali indicatori e oscillatori lo stiamo vedendo nel corso appunto di questa di questa sezione le medie mobili il MAC il momentum le bande di Bullinger Parabolic SAR l'IRS il volume la volatilità in realtà qui fa tutta diciamo generalmente c'è il rischio sempre di fare un po' tutta tutto un fascio sostanzialmente e a me poi non piace a me piace comunque sia dividerli poi in quelli che ci esprimono la volatilità rispetto a quelli che ci esprimono magari un livello di per comprato e di per venduto ok qui comunque in piattaforma trovate anche i vari indicatori e i vari oscillatori che voi potete utilizzare ad ogni modo l'oscillatore risulta molto utile dal mio punto di vista un po' più utile perché perché comunque sia quando il suo valore raggiunge l'estremità superiore o inferiore della propria banda di oscillazione vuol dire che questo mercato vuol dire che ci troviamo diciamo di fronte a un mercato saturo sostanzialmente ok l'abbiamo visto proprio qui ad esempio in questo grafico a 15 minuti guardate sempre in questo momento qui il MACD nella fattispecie sta cambiando direzionalità quindi bisogna fare un attimino attenzione a questa tipologia di movimenti o comunque sia vedete anche in questa fase qui ad esempio se noi andassimo anche un po' a ritroso tanto per vedere meglio anche senza modificare poi i parametri vedete come dal momento in cui parte questo long nel 23 di giugno e sostanzialmente con questi parametri qui lo short praticamente si chiuderebbe qui ok si chiuderebbe quindi in questa zona qui si chiuderebbe lo short comunque sia vedete anche solo con questi due elementi con questi due fattori riusciamo comunque a muoverci 100 punti non sono tantissimi però riusciamo a muoverci correttamente in in un range appunto in questo caso utilizzando questo oscillatore ovviamente dal mio punto di vista la cosa più interessante soprattutto è quando poi si verificano delle divergenze cioè quando a volte magari troviamo un doppio massimo sul prezzo ok però poi l'indicatore ci sta indicando un massimo discendente quindi in quel caso lì in quel caso lì vediamo se vi posso trovare proprio un esempio pratico anche se con il MAC è un po' complicato andiamo a vedere un attimino ad esempio con l'RSI che in generale è sempre un ottimo indicatore per per appunto trovare queste queste divergenze quindi vediamo se molto rapidamente riusciamo a farvelo vedere ok ecco qui c'è proprio un principio vedete se proprio vogliamo essere proprio peculiari giusto per darvi un po' anche l'idea vedete qui ad esempio qui ad esempio c'è un da qui a qui sostanzialmente c'è un momento in cui abbiamo un minimo comunque sia un doppio minimo discendente mentre nello stesso frame nella nella parte di sotto quindi nel nel nell'indicatore dell'RSI vedete abbiamo un doppio minimo ascendente quindi in questo caso qui è un buon segnale appunto per per comprare ovviamente vi ripeto non è che ci capita questo allora dobbiamo dobbiamo iniziare a comprare o a vendere ovviamente bisogna fare un'analisi costruire un paio di filtri ve lo ripeto sempre poi da lì prendere la decisione migliore però è giusto per per farvi un'idea poi approfondiremo anche l'RSI visto che non abbiamo parlato e vi farò vedere anche altre cose sull'RSI e per ultimo quindi l'oscillatore diciamo è abbastanza interessante perché comunque oltre il passaggio oltre la linea del valore intermedio che divide la banda orizzontale in due parti nella maggior parte degli oscillatori può dar luogo appunto a questo cambio di tendenza e quindi diciamo a questo spostamento da una zona di 50% del tracciamento più o meno alla zona più o meno alta o bassa rispetto a dove si trova il prezzo il prezzo attuale quindi è una situazione secondo me che sicuramente è molto interessante da studiare o comunque sia da portare avanti e da lì ovviamente potete farvi un'idea su quale indicatore o quale oscillatore potete potete utilizzare al meglio bene per questo video tutorial è tutto vi ringrazio vi auguro una buona giornata e ovviamente appuntamento al prossimo video tutorial ciao a tutti